Per me viene prima il bene dell'Italia che l'interesse di partito. Ognuno farà le sue scelte, vi posso solo dire che nelle prossime ore ci saranno sindaci, amministratori locali e parlamentari che appoggeranno la scelta della Lega e entreranno a far parte della famiglia della Lega. Però una cosa per volta. Vi posso solo dire che nelle prossime ore e non solo dai 5 Stelle ci saranno diverse persone che cominceranno il loro cammino con la Lega sia in Parlamento che nei territori, però non fatemi dire tutto oggi, sia alla Camera che al Senato e non solo dal Movimento 5 Stelle. Io dico solo che oggi in Senato Lega e Forza Italia e quindi il centro-destra sono forza di maggioranza rispetto a PD 5 Stelle.